Ciuff ciuff Certo certo tu vieni qui che fai parte Non lo metto non lo so Comunque salve a tutti ragazzi siamo con un'altra puntata di Fortnite Siamo nel periodo A lugliano per così dire Oggi giocherò Dovremmo esserci Oggi giocherò Non ci siamo proprio Oggi giocheremo alla modalità singolo Mancano tre giorni alla fine della sfida di Fortnite L'incubo L'ultima parte parte 4 Consiste nel concludere tutte le sfide Per riuscire a guadagnare Questa roba Che è una figata pazzesca Comunque dobbiamo fare tutti sti danni ai mostri Alle cose lì Quindi buttiamoci Nelle zone corrotte E facciamo il botto Molto probabilmente nelle zone corrotte Incontreremo un bel po' di giocatori Perché comunque è l'ultima sfida Quindi tendono tutti a giocare ste cose Mi aspetto compagnia Aspettiamoci compagnia Però mi aspetto anche che il match Inizi Vabbè Condotti con fu ma Vi direi partiamo da qui E olè Con la mia bellissima scia Andiamo a fare il botto Si spera Ecco lo sapevo Guardate quanta bella gente che incontriamo Forse ho fatto male ad andare qui Ehm Sì parecchio male ho fatto Mannaggia la miseria La vedo brutta eh Ci sono già i mostri Alle prese con la mia casa Oh cavolo Questo Oh Oh Aiuto Oh No dov'è Era dietro Frammenti del cubo Ok abbiamo già fatto Ma è però non è di Alla faccia Ne abbiamo già fatte due Fantastico Comunque come vedete Siamo già a metà dell'opera Semplicissimo Ok siamo con l'altra partita Di ritmi Toglierci Subito di mezzo La sfida Quella Riuscire ad andare In quattro aree Corrotte In una singola partita E questo E' abbastanza Complicato E mi metto già il segnalino qui I cubi No non ci posso credere Ma che Seriamente Sono fregato Perché quelli Si sono fregati Tutti i cubi E' l'anima tua Sto sorta Do calacione Qui se qualcuno Mi prende di mira So fregato assai Non mi farò fregare Così facilmente Vorrei tanto Prendere un po' di armi Ma Non sapete com'è Il tempo Stringe Limon No e perché Proprio da me Dai E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè Ciao Vabbè Sono sopravvissuto Non so come Un colpo mi dovevi dare Pure uno E mi uccide E prendi Le paracadute Cebalacus No raga Non so perché Ma sta laggando No vabbè Dai Non posso giocare In questo modo Allora Noi dobbiamo andare In queste quattro aree Che si trovano Qui in giro Poi le altre sfide Le faremo In seguito Ok Seconda area Ok La prossima È di qua Esattamente Lì Niente È lagga raga E che ve devo dire Madonna 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 dell'incoronita Buongiorno Ok Ultimo posto Quello Da quella parte Ho sentito degli spari Verso sinistra Ma tanto Ormai sono arrivato Ok No no Vabbè Sì Preferirei fare Una cosa Ce ne andiamo Da quella parte In modo che Non dovremmo Incontrare Molta gente Perché Si incontra Più gente Ovviamente Nelle parti Iniziali Da quelle parti Non dovremmo Incontrare Molta gente Con le ultime parole Famose Ecco Già uno E se ne sta andando Da quella parte Per favore Andatevene Non vi voglio vedere Devo fare La mia sfida Devo fare Le mie sfide Visto che Me ne rimangono due Devo distruggere Tre Di questi frammenti Qui del cubo E devo uccidere Sette Mostri Delight Non sono delle cose Molto Complicate Ma se te ne vai Grazie Questa Mi farà comodo Eccone uno Ecco l'altro Ecco qui E me l'ha lanciato Sì vabbè Non ci credo Ne abbiamo rotto uno Eh ma guarda un po' No Vabbè dai Uccidetemi Uccidetemi dai Sì A me non ha Avuto il gusto Quello di uccidermi L'avversario Ne abbiamo rotto Uno di cubo Cioè Di frammento Ora mi rimane Solo quella Dispita da fare Due Ne devo rompere Posso anche fare Uno in una partita E l'altro in un'altra Facciamo come a prima Andiamo Il più lontano Possibile L'anima tua Mamma santa Mi ha fatto spaventare Quello Dove scappi Ha ha E abbiamo fatto Anche un'uccisione Oh cavolo Che ha fatto Che ha fatto Quello Oh Via via Ok Fatto Eh però Addio Ok È stata una mossa Geniale Peccato che qui Non ci sia niente Ah C'è una lì Ma allora Buonissimo Poi proprio In un posto Non ci posso credere Oh cavolo Attenzione No No Eh vabbè Eh dai no Ok Fatto Sono morto Vabbè Non c'è problema L'importante Che sono riuscito A concludere Questa Ultima sfida Fatto sta che Abbiamo guadagnato Questo Grazie per aver giocato Guardate che bomba Sto per vedere Questo Magnifico Deltaplano No che Sarà Per schierare Il motore Oscuro Guardate Che bomba Intanto Qui il cubo Si sta rovinando A parte Vabbè Il lag Sorprendente Che vabbè Fa paura Solo a vedersi Ah Stava aperto Dall'altra parte Perfetto Oh cavolo Ma me ne sono accorto Voglio provare A killarlo Olè Quanto mi diverte Fare questa cosa Sembra di stare In un corso Di paracatutismo Oh Vabbè Bellissimo Olè Superman È arrivato Non mi copierai mai Perché io sono Superman Quanto in alto Incredibile Ciuff ciuff Ah si Vorresti prendermi E io me ne vado Ciao Ciao Non mi raggiunge nessuno Oh mio dio Oh è proprio Ostinato Questo qui Dai Ammazzatemi So che lo volete E hanno fatto il botto Finale Comunque Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Se questo è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se l'ho ancora fatto Bella ragazzi Meanwhile